C'erano tutti i giocattoli più in voga al momento, persino le quasi introvabili LOL tra il 1.250.000 articoli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara nella operazione definita Fanni Gammi. Giocattoli delle migliore marche contraffatti oppure nocivi per la salute che potevano essere trovati regolarmente all'interno di negozi gestiti sia da cinesi che da italiani. La rete di distribuzione a livello nazionale è stata scoperta grazie ad un primo sequestro compiuto a Pescara lo scorso maggio, una normale operazione all'interno di un esercizio commerciale gestito da cinesi in cui sono stati trovati 450 articoli senza bollino CE. Da qui, con una indagine a ritroso, si è risaliti ad altri commercianti e grossisti in altre località a Roma, Napoli, Poggio Marino, Modugno ed Alba Adriatica. Il contrasto va fatto a tutti i livelli. Dobbiamo recuperare l'intera filiera, disarticolare l'intera filiera, perché se non si disarticola la filiera, peraltro molto redditizia, anche se illecita, il problema continua a ripetersi a livello di venditori. La Guardia di Finanza ha segnalato alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative nove persone tra italiani e cinesi che dovranno pagare complessivamente 225.000 euro di multe. Denunciati all'autorità giudiziaria, invece, cinque extracomunitari, quattro cinesi e un bengalese, per i reati di contraffazione di marchi e frode in commercio. La Guardia di Finanza di Pescara, così, ha stroncato una vera e propria organizzazione del commercio illegale, anche se non si configura il reato di associazione per delinquere. Il giro d'affari era superiore ai 5 milioni di euro. E la valenza, ripeto, va oltre l'aspetto economico, perché qui parliamo di tutela dei consumatori, della salute dei consumatori, in particolare, in questo caso, trattandosi di giocattoli, parliamo esclusivamente di consumatori minori, anche di tenera età, ma il riverber ha anche una valenza sicuramente straordinaria, anche sotto l'aspetto della legalità, della tutela, della legalità economica. Questo a favore del mercato legale dei prodotti, dei giocattoli, perché aver sottratto al mercato 1.200.000 pezzi di giocattoli significa aver tutelato quegli operatori legali che si impegnano ad operare nel rispetto delle regole dei consumatori e della legalità in genere.